Nella città di Agropoli sono state accese le luci del Natale. Illuminazioni sobri, ha detto il sindaco, ma di grande impatto, che vogliono essere un messaggio di positività in questo particolare momento storico. Certamente rispetto agli altri anni abbiamo voluto mettere qualcosa di più sobrio, di più equilibrato, perché il momento non è dei migliori. Quindi abbiamo immaginato di investire parte delle somme verso la solidarietà, verso il sostegno delle persone che oggi non stanno bene e dicono che questo momento è ancora più in difficoltà. In centro spiccano una grande stella cometa e un maestoso albero, colorate a festa le aiuole e le strade principali del paese, diversi i curiosi che hanno assistito all'accensione nel rispetto delle regole anti-Covid. Però non abbiamo voluto far mancare un messaggio di speranza, ecco, le luci di Natale rappresentano per la città certamente un momento di speranza, una speranza che non deve mai affievolirsi, perché dobbiamo avere la forza di proseguire questa battaglia contro la pandemia e ci auguriamo che l'anno 2021 non sia come l'anno 2020 e che in qualche modo con l'arrivo del vaccino possiamo finalmente scugurare uscire da questo tremendo tunnel. Grazie a tutti!